Sono Mario Ragnoli, ho 26 anni, sono nato a FIUGI e coro per il team LiquiCast Cannondale. Il primo ricordo amaro perché praticamente i miei regginitori mi hanno regalato dei look che sono quei pedali a sgancio rapido. Il 6 gennaio, cioè nel mio compleanno, mi hanno regalato questa bici con questa cosa, io mega, fantastico, eccitato, andavo in giro su casa mia, era arrivato il momento di girare. Io ero isolato per casa con l'escurazione dappertutto. Quando sono in bici ho una grande emozione, una grande realtà e un sogno che per me si è realizzato. A Verona sul palco ho saporato l'ebbrezza di avere accanto una persona con la maglia rosa. E la sera poi l'ho anche indossata perché mi sembrava giusto che la piene, la fatica è anche la mia. La vera forza LiquiCast Cannondale è assoluta ormai da anni, è il gruppo. Sono molto fiero di far parte di questa squadra e spero di ripagare le loro fiducia nei prossimi anni. I miei obiettivi in primis nel 2011 è vincere. Ciò non toglie che quando sono al servizio di Ivan e di Vincenzo io metto da parte le mie aspettative e punto con loro perché voglio vincere con loro. L'ultima cosa ho imparato è quella di ascoltare. E questo ringrazio molto la mia ragazza Giovanna che sta facendo un grandissimo lavoro su di me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.